Buongiorno e benvenuti nel mio nuovo video! Oggi per la rubrica Il nottetempo, cioè letture mensili, andiamo a vedere che cosa ho letto nel mese di febbraio. Allora, ancora una volta andiamo in ordine di grandezza così che la pila stia perfettamente su. La premessa da fare è, visto che non siamo ancora del tutto alla fine del mese, io ho ancora un po' di letture da fare per quanto riguarda in particolare le uscite dei fumetti americani, diciamo. In più, come avrai visto se mi segui su Goodreads, in cui ti ricordo più o meno metto tutto quello che leggo, più che altro per quanto riguarda i libri, sto leggendo in questi giorni il primo libro della serie di Dune, che mi sono fatta prestare dal mio ragazzo. E' ancora in lettura perché ho, diciamo, fatto l'errore di volerlo leggere nella settimana dedicata agli Oscar. Io ho voluto vedere un po' dei film in concorso e poi tutta la serata, eccetera. Ho perso un sacco di tempo che avrei dovuto dedicare alla lettura, ecco. Quindi riprenderò sicuramente la lettura di Dune in questi giorni. Allora, partendo dal volume più piccolo. Il sesto volume di The Seven Deadly Sins. Continuo a parlarne bene, mi è piaciuto anche questo. Alcune cose sono cose già viste altrove, comunque il cliché del genere c'è sicuramente, ma mi piace, la tematica fantasy è ben studiata e in sostanza continuo a consigliarlo. Dopodiché il primo libro che andiamo a vedere è Vita stregata della Vinne Jones, già conosciuta, penso, da tutti per la trilogia dedicata al Castellerrante di Howl, da cui è stato preso l'omonimo film di animazione di Miyazaki. Questo Vita stregata è il primo della serie di Crestomanci, un stregone che ha una lunga vita dedicata a un sacco di esperienze di carattere magico. In questo caso fa la conoscenza di due bambini, diciamo così, che hanno particolari abilità e due caratteri decisamente difficili da domare. Questo è il primo della serie di Crestomanci, se vuoi sapere cosa ne penso più in dettaglio ho fatto una piccola recensione su Goodreads. Devo dire che mi è piaciuto molto e che mi ha ricordato moltissimo la figura di Abus Silente, quello che poi è uno dei protagonisti di Harry Potter. Assolutamente consigliato e pur essendo un libro per bambini, io l'ho trovato piuttosto godibile. Lo posso consigliare tranquillamente anche a lettori molto giovani. Altri due libri. Allora, Perfetto difettoso. Autobiografia, praticamente, di Piero Pelù. Cantante che io conosco e, come ti dicevo qualche video fa, non ho mai avuto una particolare attenzione per la vita privata degli artisti che seguo. Io ho seguito per parecchio tempo il Lit Fiba, gruppo di cui Piero Pelù è appunto stato il leader. È scritta in maniera semplice, ma non annoia minimamente e non si dilunga in dettagli di poco conto magari per il lettore. Io la consiglio, è stata una lettura carina, simpatica, devo dire. Dopodiché abbiamo Ion di Alison Goodman. Ion è un fantasy che io ho comprato tipo quasi un anno fa, o comunque tanti mesi fa. Mi era rimasto in libreria e non l'avevo più letto per motivi vari. L'ho preso in mano e devo dire che mi è piaciuto più di quanto mi sarei aspettata. Ion è il primo di due libri, Ione e Iona, che è il secondo. La protagonista è una sorta di novella Mulan, nel senso che mi ricorda molto la protagonista del film della Disney. Comunque mi è molto piaciuto, è ambientato in un posto ipotetico, non effettivamente reale, ma che ricorda tantissimo un misto molto intelligente fra Cina e Giappone. Ovviamente, come potrei vincere dalla copertina, i draghi sono coinvolti, è coinvolto un tipo molto particolare di magia che potrei dire essere inerente a quello che gli orientali chiamano il C. Io lo consiglio, mi è piaciuto molto, è in lingua inglese, non è ancora stato tradotto. Ne leggerò sicuramente il seguito. La protagonista è veramente un personaggio che puoi apprezzare senza problemi. Io penso che vada meglio per un lettore più adulto, ecco, perché sono coinvolte un sacco di cose che non sono delle più semplici, in particolare, esattamente come in Mulan, tutta una serie di coinvolgimenti per quanto riguarda l'identità sessuale dal punto di vista dei comportamenti. E queste sono analisi che magari potrebbe fare un lettore un po' più adulto. Assolutamente consigliato, devo dire. Questa è stata un pochino una delusione. Ho letto tutte le opere di Rimbaud in questa edizione della Newton Compton, che, memore di altri acquisti, poi se potrò non penso li farò, ma avevo questo in libreria e questo ho letto. In realtà ne avevo già letto il grosso del testo, ma l'ho voluto rileggere tutto, perché nei miei obiettivi, che non sono scritti, nel senso sono cose che mi sono impostate così, di quest'anno vorrei leggere un po' più di poesia, non che sia totalmente digiuna, ma ci sono alcuni autori che non ho mai approfondito a sufficienza. Uno di questi è Rimbaud, di cui ho letto appunto questa raccolta. Devo dire che è tradotta in una maniera che non mi ha soddisfatto. E io, nonostante ci sia il testo a fronte, non conosco la lingua originale, che è ovviamente il francese, quindi mi trovo un po' in difesa davanti a questa lettura. Detto questo, alcune di queste poesie mi hanno colpita, ma il grosso dell'opera io credo che sia viziato proprio dal fatto che in questa traduzione non riesco davvero ad apprezzarlo. Detto questo, mi ha fatto piacere approfondire un po' quest'autore che non conoscevo forse a sufficienza. Uno dei volumi che mi mancavano dei classici del fumetto di Repubblica, l'arte di Mebius, autore che io già conoscevo anche in altre sue vesti. Ricordiamo che è un autore che si presenta con tre diversi nomi, Mebius, per cui forse è il più noto, e Jean Giraud, che sarebbe il suo nome, e direi Gix, un Gir, Gir, Gir. Sono i tre nickname di questo autore, che purtroppo è venuto a mancare negli ultimi anni. Detto questo, Mebius è un autore davvero molto noto. Se devo dire la mia, questa opera in particolare, cioè l'arte di Mebius, che raccoglie prevalentemente il garage ermetico, poi la faccenda Arzak, e poi un sacco di storie autoconclusive, diciamo brevi, non rende granché giustizia all'autore. Dunque, io personalmente in questa edizione, in quest'opera, l'ho apprezzato meno che da altre parti. C'è da dire questo, io lo adoro, mi piace proprio tanto come comparto artistico, come illustratore, ecco. Per quanto riguarda i dialoghi, io trovo che l'autore non sia proprio nel suo elemento naturale. Le storie che apprezzo di più di Mebius sono quelle mute, perché secondo me è in grado, perfettamente, con la sola immagine, di raccontarti una storia. Quando cerca di creare dei dialoghi, delle situazioni particolari, secondo me non è molto nel suo elemento. Detto questo, un volume che assolutamente può essere utile per cominciare a conoscere l'autore, e in generale, quindi più o meno, potrei consigliarlo. I due volumi di Dylan Dogg che ho letto questo mese, il 340 e il 341. Il 341 in particolare mi è piaciuto molto, ne ho parlato mezza YouTube, quindi non ne parlo a lungo, però, sia di questo Benvenuti a Wicked Ford, sia che al servizio del caos, c'è una mia brevissima recensione su Goodreads, di cui la seconda, cioè al servizio del caos, è anche sul mio Tumblr, sul mio blog. Quindi la puoi leggere tranquillamente. Questo 341 mi è piaciuto molto, e vediamo, finalmente all'opera, il famoso John Ghost, personaggio, diciamo, cattivo, nemesi, nuova, di Dylan Dogg, che era già stato presentato, se ti ricordi, in quei volumi che ti ho mostrato negli acquisti del Luca Comics. Il volume che è rimasto orfano dallo scorso video, il secondo volume delle origini di Wizards of Mickey. Esattamente come il primo, io rimango sulla stessa idea. Lo consiglio per gli amanti del fantasy in particolare, parla proprio di duelli fra maghi, che è la tematica più classica del fantasy di altri tempi. Le tavole sono le solite, come al solito io preferivo l'edizione precedente, perché i colori erano un po' più brillanti, ma io continuo a consigliare anche questa. Forse le due più grandi scoperte di questa mese, Saga e Black Science. Dunque, entrambi i volumi, io dovevo leggerli da un po' Saga, da molto più tempo, nel senso che è uscito da parecchio. L'ho voluto comprare in questa edizione della Image, che raccoglie dal volume 1 al volume 6, ovviamente degli spillati, appunto di Saga, di Vaughn e Staples. Dunque, Vaughn, autore che io conoscevo già per aver scritto altre opere, illustratrice, Staples, che non avevo mai letto, diciamo, di cui non avevo mai visto nulla. Poi in realtà, andando a controllare sulla sua produzione, qualcosa avrei dovuto ricordarmi, ma non mi diceva nulla, così per il nome, diciamo. Dunque, questo volume, intanto, si presenta in maniera molto normale, devo dire, come tanti altri brussurati di questa casa editrice. Sfogliandolo, però, a parte il fatto che si tratta della solita ostima carta patinata, ci si accorge di quanto questa storia sia figa, sia bella. Praticamente, si parla in due parole, perché ne ha parlato diversa gente, si parla di una sorta di rivisitazione inedita della storia di Romeo e Giulietta. Ricordiamo, si tratta di un dramma, Romeo e Giulietta, quindi comunque, non mi aspettavo che le cose fossero rose e fiori fin dal primo volume, cosa che infatti non è in saga. Devo dire che, esattamente come l'intervista che ho letto di Avon, appunto, praticamente sono Romeo e Giulietta, ma che fanno un sacco di sesso. Sì, è un risulto che funziona, nel senso che questa è un'opera che è consigliata e scritta per il pubblico adulto. Ci sono un sacco di riferimenti di carattere più o meno esplicito, ma comunque palesemente di carattere sessuale. C'è ovviamente la violenza prevista dal fatto che i loro due sono due soldati di due eserciti contrapposti, quindi è chiaro che la faccenda esercito sia coinvolta, e c'è la componente fantascientifica data dal fatto che loro due siano appartenenti a due, chiamiamo le razze, non umane che sono dislocate in punti molto remoti delle galassie. Quindi, devo dire che mi ha molto stupita. Sicuramente leggerò il resto e mi picchio da sola per non averlo letto prima. Black Science invece lo aspettavo da un po' meno tempo perché comunque è un'uscita del 2014 anche in lingua originale, anche qui volumi dall'1 al 6 della serie regolare. Non ne parlo oltre perché ne ho fatto un video a lui dedicato, si chiama Fumetti dal Tardis due punti Black Science e lo trovi sul mio canale. Rilettura per l'ambizioso progetto Gaiman di cui ho già fatto dei video ma che non mi hanno soddisfatto. Detto questo, il grande momento della tua vita che io possedevo in questa edizione della Magic Press cartonata. Si tratta di uno dei volumi dedicati a Death, War degli Eterni e protagonisti della faccenda Sandman scritto da Neil Gaiman. Tuttavia, ho avuto un bellissimo regalo nei mesi scorsi che è stato questo che è esattamente il volume che hai visto prima ma in lingua originale. Mi ha fatto molto piacere leggerlo in inglese anche proprio per la musicalità del verso che viene espressa qua dalle vignette. Lo stile grafico mi è piaciuto molto anche in questo volume. Io continuo a consigliare moltissimo i due volumi dedicati a Death quindi sia quello di cui ho parlato nello scorso video che puoi andare a vedere sia The Time of Your Life appunto. Sì, questo volume qua è ristetto da Chris Baccalo non mi è piaciuto certo meno dell'altro. La rilettura mi ha fatto molto piacere mi ha fatto apprezzare forse ancora di più l'opera io continuo a consigliarla tantissimo forse anche indipendentemente da Sandman perché la protagonista appunto Death la si conosce meglio se si conosce Sandman ma forse questi volumi sì che possono essere letti indipendentemente da Sandman invece sai che io consiglio la lettura di Sandman Overture solo dopo la lettura di Sandman. Ti ricordi che ho parlato di questo Mind Management che avevo letto il primo volume che volevo andare avanti con la lettura? Beh, l'ho fatto e ho letto dal volume 2 vediamo se riesco a mostrarteli un minimo dal volume 2 al volume 5 come l'ho detto al volume 6 sono stata anche più brava di quanto pensassi. Allora questo fumetto è stata una grande scoperta nel senso che forse anche un pochino penalizzato da questa edizione di Panini che effettivamente non è delle più lusinghiere ecco non credevo di doverci dare il peso e l'importanza che invece si sarebbe meritato. Dunque dal primo volume ti dicevo che si capiva un po' quanto fosse celebrale la faccenda nei volumi successivi si va a spiegare e a dispiegare soprattutto un po' di più la trama i protagonisti e si va a capire effettivamente la nostra protagonista cioè Meru come e in che modo effettivamente sia coinvolta con la vicenda amnesia da cui siamo partiti ti rimando al video in cui ho parlato del volume 1 forse che è meglio se vuoi sapere un po' da dove siamo partiti ma comunque senza farti spoiler di alcun tipo scopriremo effettivamente cosa fa cosa è questa mind management e in generale ci tratteggeremo meglio nella nostra testa anche un'idea di chi siano i protagonisti e che cosa vogliono fare effettivamente della loro vita in un certo senso. Questi sei volumi costituiscono un po' il primo ciclo della storia avrai capito anche nei brossurati che ti ho presentato che in America è un po' il cliché dividere ogni sei volumi una saga ecco questi sei insieme danno un'idea già generale di come andrà la storia io trovo sempre molto molto carino il fatto che le pubblicità dietro siano a tema e che ci siano dei rimandi ipertestuali qua e là che sono interessanti da trovare niente non conoscevo già l'autore Matt Kint appunto che ho conosciuto con quest'opera e devo dire che delle opere della Dark Horse che ho letto che non sono tantissime questa però mi è piaciuta molto io la consiglio e considerando che sono 2,50€ a volume sì sono 24 pagine a colori ma comunque 2,50€ a volume è una spesa anche piuttosto sostenibile anche in questo caso si parla di un'opera pensata per un pubblico adulto se in saga ti parlavo di sesso e in death forse per la faccenda tematica complessa e il stesso vale per black science in mind management sicuramente il problema del vietato è la violenza e la complessità psicologica della faccenda quindi anch'io questo lo consiglio di nuovo a un pubblico maturo ma tutto sta poi al tuo giudizio infine i volumi più grandi del mese i 4 volumi di Asterix partiamo con Asterix in Corsica volume che non è male che fa parte diciamo di quei volumi più specifici di Asterix in cui si parla proprio di viaggi espressamente come diranno appunto gli autori però Asterix non è una guida turistica e quindi non è il punto dove effettivamente vadano un volume normale di Asterix in cui appunto i nostri eroi si trovano indovina ad andare in Corsica Asterix in Iberia volume invece decisamente fra quelli che io ho preferito al momento volume in cui i due protagonisti si trovano ad incontrare ovviamente degli spagnoli che sono quantomeno bellicosi non a livello forse dei galli ma poco ci manca ecco in particolare è molto divertente questo volume ecco più di altri forse e io sono stupita che da questo volume non sia stato tratto ancora un film Asterix in Iberia forse il mio volume preferito di quelli che sono usciti finora che è stato già trasposto in fin di animazione con Asterix e I Vichinghi i normanni sono una popolazione tanto per cominciare che secondo me è affascinante a prescindere ma in quest'opera sono ancora più interessanti sono presentati come la popolazione senza paura per cui sono passati alla storia e ricordiamo che il loro unico timore era che il cielo gli cascasse sulla testa in questo volume è molto chiaro tutto questo è interessante l'incontro con i galli che come dire sono abbastanza avversi al non avere paura ed è il volume forse che io consiglio di più di quelli che ho letto finora anche questo è divertente e è la dimostrazione di quanto storia e mito e umorismo anche si mischino in Asterix e Obelix una serie che secondo me è insensatamente sottovalutata dalla gente infine Asterix e gli Elbezi che ho letto proprio oggi volume in cui fondamentalmente i nostri eroi vanno a fare la conoscenza di una branca particolare di quella che adesso potremmo chiamare popolazione svizzera poche parole orologi a cocù e cliché di vario tipo che come in tanti altri dei volumi di Asterix sono cliché che vengono in qualche modo sfatati o ridicolizzati con un certo senso anche questo volume è carino devo dire che appunto di questo blocco io consiglio molto di più Asterix in Iberia e Asterix in Normanni che sono veramente due volumi sopra rispetto alla metà di quelli che sono usciti finora niente queste sono state finora le mie letture di febbraio tu hai letto qualcosa di quello che ho letto io fammi sapere cosa ne pensi insomma se alcune cose ti sono piaciute se non ti sono piaciute e perché fammi sapere che mi fa sempre piacere se per caso hai letto qualcosa perché ne ho parlato io di queste cose diciamo o anche in generale nei video precedenti io sicuramente andrò a parlarti di cose tipo il secondo numero di John Constantine il solito volume di Fables lanterna verde sinestro eccetera eccetera le mie solite letture ne parlerò magari nel prossimo video proprio per quei sono le cose che voglio leggere negli ultimi giorni non mi voglio mettere fretta semplicemente per fare il video ecco detto questo io ti ringrazio di aver visto questo video finora ti ringrazio di come dire di aver seguito il mio blaterale fino a questo minuto che non so ancora quale sia ma probabilmente ho parlato fin troppo io ti saluto ci vediamo in un prossimo video un prossimo video